Io l'altro giorno non replico, nel senso che io non voglio far polemiche, nel senso che l'altro giorno sono venuto a Fano, da assessore regionale, ad avvisare l'amministrazione comunale di Fano che causa una serie di ritardi che si stavano perpetrando nella piarra d'appalto per le scogliere di Metroriglia, si rischiava di perdere un finanziamento. Finita quella riunione, io ho rilasciato delle dichiarazioni alla vostra emittente e ad altri giornalisti, il sindaco il giorno successivo se l'è presa perché sembra che io l'abbia fatto di nascosto, quando invece l'ho fatto all'interno della sala della Concordia, della residenza comunale, quindi a casa tra virgolette del sindaco, sono qui semplicemente a precisare questo, che il ritardo c'è da parte del Comune di Fano e del Ministero, perché qui il protocollo diceva che nel 2018 ha firmato l'accordo e entro il 2020 dovrebbero essere finiti i lavori. Ovviamente non sono finiti, c'è stata una proroga al 2022, però da questo protocollo si evince che entro gennaio 2021 deve essere approvato il progetto, non è stato approvato. Entro ottobre occorre fare la grada d'appalto e entro il 2022 rendi contare tutti i lavori finiti, 4 milioni di euro. Secondo me siamo molto stretti coi tempi, io bonariamente l'altro giorno ho dovuto dirgli che se lavoriamo insieme noi possiamo cercare di spostare come regione il finanziamento al 2025, per non perderlo. Visto che si è un po' risentito, io adesso gliel'ho messo per iscritto, con una lettera ufficiale dalla Regione Marche, a questo punto se il sindaco pensa di non essere in ritardo, conclude tutto nel 2022, mi fa piacere, se pensa che qualche rischio c'è, basta che mi risponda questa lettera, chiedendo alla Regione Marche di spostare il finanziamento, io sono più che mai disponibile, lavoro con tutti i sindaci delle Marche, ancora più volentieri lavoro insieme al sindaco di Fano, se c'è condivisione sul progetto ovviamente e sulla finalità.